Si scava nella vita di Giuseppe Potenza l'agricoltore di 52 anni per capire qual è il movente che ieri sera intorno alle 22 ha armato le mani di ignoti che lo hanno colpito alle braccia e alle gambe con colpi di arba da fuoco. Trasportato d'urgenza presso l'ospedale Perino di Brindisi da un'ambulanza del 118, l'uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l'estazione dei proiettili. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Potenza assieme alla moglie ieri sera intorno alle 21.30 aveva fatto da poco rientro a casa da Savelletri e si stava accingendo a cenare nei pressi della veranda del villino di sua proprietà, ubicato proprio a ridosso della strada provinciale a Frasano Savelletri, quando nei pressi del cancello dell'abitazione è giunta una moto. A bordo del mezzo avvierono due persone che hanno chiamato per nome Potenza, il quale si è avvicinato al cancello per capire chi fosse. Una volta giunto nei pressi dell'ingresso dell'abitazione, i due sicali gli hanno esploso contro tre colpi di pistola, colpendolo alle gambe e alle braccia. Potenza a quel punto, nonostante fosse ferito, è riuscito a rientrare sotto la veranda ed attirare l'attenzione della moglie, che ha immediatamente chiamato il 118 ed i carabinieri. I militari dell'arma giunti sul posto hanno subito avviato le indagini, ascoltando i vicini e scandagliando palmo a palmo il piazzale antistante l'abitazione e il vialetto di accesso alla ricerca di tracce utili alle indagini e in particolare di bossoli o cartucce. A quanto pare però nulla di tutto ciò è stato rinvenuto sul luogo della gambizzazione e questo fa pensare che a sparare sia stata una pistola a tamburo. I carabinieri nella notte hanno anche visitato diversi locali di Savelletri. I coniugi Potenza, infatti, prima di fare rientro a casa per la cena, pare fossero stati in un bar e una rossicceria della nota località del Fasanese, dalla quale avrebbero acquistato anche qualcosa da mangiare per cena. E i militari stanno cercando, con immagini di telecamere di sicurezza, di capire se qualcuno avesse inseguito la coppia nel suo tragitto a Savelletri, prima dell'agguato. Un agguato che poteva anche avere conseguenze peggiori. Chi ha sparato in fatti ha mirato, oltre che alle gambe, anche alle braccia, quindi all'indirizzo di organi vitali. Per fortuna, i colpi di arma da fuoco non hanno attinto mortalmente il 52enne. Ricordiamo che Giuseppe Potenza è incensurato e non ha mai avuto problemi con la giustizia.